Amici di Legnano Web TV, siamo qui a Leone da Perego, qui a Legnano, per una giornata molto importante per i giovani, ovvero un incontro tra il mondo universitario e i giovani, seminari, informazione e tanto altro sul mondo universitario. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Allora, siamo qui con Loredana Provasi del Comune di Legnano per questa fantastica giornata all'insegna del mondo universitario. La prima domanda che voglio farle, signora Loredana, è come sta andando questa giornata e se ci spiega un po' in cosa consiste. Sì, diciamo è la seconda giornata perché il campus è stato inaugurato ieri mattina alle 9.30, alla presenza dell'assessore Umberto Sinvestri del nostro settore di attività educative, e sta andando molto bene, proprio diciamo sia la location che anche le scuole hanno partecipato molto attivamente e sono diciamo al mattino, c'è molta più affluenza perché ci sono le presentazioni delle università e poi con la visita degli stand che ci sono al piano superiore e al pomeriggio invece ci sono i seminari, quindi i ragazzi vengono più liberi, diciamo da soli o con i genitori o comunque, mentre al mattino vengono anche accompagnati dalla scuola direttamente dai loro docenti. Infatti mi diceva soprattutto ieri mattina e stamattina c'è stata una forte affluenza delle scuole della zona? Sì, 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 proprio della zona non solo di Legnano ma solamente da Parabiago, da Ro, anche da proprio fuori provincia, quindi Castellanza, Varese, quindi siamo molto contenti della partecipazione da parte delle scuole, degli studenti. E mi diceva anche che sono circa 33 le università coinvolte e anche qualcuna straniera se non sbaglio. Sì, sì, abbiamo tutte le università di Milano, tranne il Politecnico che per una loro scelta non partecipano a nessun campus ultimamente, quindi oltre a quelle di Milano, sia private che statali, abbiamo Nisubria, quindi provincia di Varese, Como, poi addirittura del Piemonte Orientale, della Svizzera ne abbiamo due e poi c'è anche Madrid, una università di Madrid. Ecco, quindi diciamo questo è un servizio che il Comune offre un po' a tutti gli studenti e non studenti della zona per capire un po' meglio com'è il mondo universitario e come, diciamo, si proietta il futuro all'interno delle università con dei seminari, dove c'è anche la possibilità di intervenire a questi seminari facendo domande e richiedere maggiori informazioni. Ecco, voi come Comune date anche la possibilità, una volta terminato questo incontro, questi incontri, se qualcuno ha bisogno di maggiori informazioni, di scrivervi o c'è qualche altro modo, diciamo, per andare incontro all'università? Allora, all'ufficio relazioni con il pubblico è rimasta una parte dell'informa giovani e quindi il materiale che noi raccogliamo in queste due giornate lo lasciamo a disposizione degli utenti, dei cittadini che volessero richiedere, quindi richiedere maggiori informazioni. Come servizio istruzione abbiamo una sorta di suo appuntamento, una sorta di ufficio orientamento, così proprio come URP per accogliere eventuali richieste da parte degli studenti che appunto vogliono un maggior orientamento. Ecco, una cosa che volevo precisare è che questo campus universitario raccoglie anche non solo l'offerta formativa dell'università ma anche l'offerta post diploma, infatti ci sono degli stand proprio di accademi e anche di percorsi per ragazzi che non vogliono proseguire con l'università ma fare un percorso di alta specializzazione nell'ambito della formazione tecnica, quindi ci sono dei percorsi più brevi rispetto a un percorso universitario. Perfetto, io la ringrazio. Noi adesso andremo un po' a scoprire i vari stand che sono sopra qui a Leone da Perego, la ringrazio e buon proseguimento. Grazie mille a voi. Grazie mille a voi.